E' stato riconsegnato alla città con 47 giorni di anticipo il ponte sul fiume Alento a Francavilla al mare. Il ponte era stato chiuso al transito il 29 marzo scorso per metterlo in sicurezza grazie ad un finanziamento regionale ottenuto con il progetto a piedi sicuri promosso dal comune di Francavilla insieme a Torrevecchia e Ripateatina. L'intervento ha consentito di allargare la sede del ponte e realizzare due marciapiedi larghi circa 2 metri utilizzabili anche dai diversamente abili, il sindaco Antonio Luciani. L'Italia che ci ha abituato a iniziare le opere e a non terminarle, quest'opera è stata restituita alla città con ben 47 giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma e questo è un motivo di orgoglio e di soddisfazione di questa città. Ovviamente nel rifacimento del ponte, nella sistemazione è stata prevista tutta l'urbanizzazione necessaria e quindi nuove luci, nuovo asfalto e devo dire che anche oggi lo possiamo dire, ci siamo resi conto all'inizio dei lavori che quel ponte era arrivato al limite, quindi c'era già anche una situazione di pericolosità cosa che ci fa pensare che dovremo andare a controllare ora immediatamente anche tutte le altre strutture sul territorio. Grazie. 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 Grazie.